Nata a Como nel 1964, Bennett è protagonista nel mercato italiano dei vipermercati e dei centri commerciali. Con 61 punti vendita in tutto il nord Italia. Per elevare costantemente i propri standard qualitativi, l'azienda ricorre sempre alle tecnologie più innovative e l'adozione del sistema vocale nel centro di distribuzione scatolame rientra proprio in questo obiettivo. Un'installazione pienamente riuscita, per la quale si è scelto un fornitore all'altezza del nome d'Eme, Zetes. Fondato nel 1984, Zetes è una presenza in 13 nazioni europee, in particolare l'Armodo in Italia è stata fondata nel 2005. Zetes è il partner tecnologico selezionato da Bennett per l'implementazione dei progetti vocali. In particolare si è utilizzata la soluzione Trevi Connector. Zetes è leader dell'implementazione di progetti sulla tracciabilità di prodotti, di merci e di soluzioni vocali. In particolare in Italia abbiamo un focus specifico su tutte le applicazioni vocali. Situato ad Origgio, in provincia di Varese, il centro di distribuzione scatolame di Bennett copre 44.000 m2 di superficie e movimenta 45 milioni di colli all'anno. Per il sistema vocale più utilizzato, Zetes ha curato tutta la parte applicativa, integrando il software modulare Trevi con l'applicativo di magazzino su AS400. Corsia 65, 20, 18, posizione 0, 3. 7, 1. Prendi 1. 2, ok. Ok, consentito prelevare più di 4 ripiesto. Prendi 1. 1, ok. Parliamo dell'attività di peaking che svolgiamo presso il deposito di Origgio, siamo partiti da una situazione con un supporto tecnologico come lì, sul braccialetto indossabile a radiofrequenza, risultati di produttività buoni ma qualità pessima. Abbiamo cercato una soluzione quindi più innovativa come tecnologia, come il voice peaking, con due obiettivi di progetto, il miglioramento della produttività, quindi riduzione dei costi, e il miglioramento della qualità, quindi riduzione degli errori. Primo punto di vista ancora in fase di raggiungimento, trend buono ma non ancora a livello dei target di progetto, mentre sul secondo aspetto siamo sicuramente già in linea e forse oltre i target previsti. Il deposito era già informatizzato con un sistema di prelievo con terminali in radiofrequenza e un'applicazione su S400 centrale. È stata mantenuta l'applicazione di sede e integrata con i nuovi terminali Tolkman della Vocollet. Per la parte applicativa è stato utilizzato il 3V connector, un modulo della ZS, direttamente sull'S400 per semplificare l'aspetto di gestione del sistema. I terminali colloquino con rete geografica e in questo momento le prestazioni sono molto buone. Il sistema si presenta molto fessibile e di facile utilizzo per gli operatori, anche in termini di gestione e configurazione. Gli operatori hanno accolto molto positivamente il nuovo sistema Voice. Uno perché gli libera le mani dal prelievo e quindi rende più facile il prelievo stesso alle persone, facilitando il lavoro in essere. Siamo passati da un addestramento di circa 10 giorni a un addestramento di 2-3 giorni, il che rende tutto molto più semplice lavorare sia da parte della regia che dagli operatori stessi. La cosa molto importante che ci ha gratificato è il fatto delle manutenzioni, delle usure dei terminali che sono ridotte al minimo, se non dire zero. La mia esperienza sul voi, quello che posso dire è che da quando abbiamo cominciato a lavorare con questo strumento la nostra qualità di lavoro si è alzata di molto, nel senso che errori se ne fanno pochissimi, quasi niente, e poi si lavora più veloce. I problemi per quanto mi riguarda non ci sono, visto che essendo un estraniero il mio accento lo riconosce a perfezione, non ci sono nessun problema, quindi la qualità penso che è migliorata, di conseguenza i nostri datori saranno contenti, contenti anche noi. Ciao!